Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento Iron Man edizione De Agostini 2022 Marvel numero 95. Mi permetto subito di darvi un consiglio, poi ovviamente fate quello che volete, però poi non mi scrivete sui commenti chiedendomi domande le quali risposte sono contenute tutte in questo video. Quindi vi do il consiglio di non mandare avanti il video per nessuna ragione perché vi darò delle importantissime informazioni inerenti purtroppo, ma può capitare, ci mancherebbe, a un'indicazione di una foto sbagliata contenuta all'interno del fascicolo durante la fase di montaggio di un pezzo importante e vi farò anche vedere che in effetti la foto è sbagliata ma ripeto non dovrebbe mai successo ma basta fermarsi un attimo a fare delle prove come ho fatto io per riuscire a capire che il pezzo andava montato diversamente quindi seguitemi altrimenti difficilmente il vostro pezzo si potrà attaccare all'armatura in maniera corretta. Allora daremo la possibilità a chi lo desidera di leggere l'interno del fascicolo però durante questa questa parte del video io vi farò anche vedere appunto l'errore e poi chiaramente durante le fasi del montaggio andremo a risolvere tutto. Qua abbiamo la seconda pagina di copertina con numeri utili e servizi. Devo dirvi la verità ci ho messo un'oretta perché ovviamente sono andato tranquillo con le istruzioni e appunto mi chiedevo come era possibile che non si agganciasse correttamente il pezzo seppur avevo montato tutto in maniera corretta e doveva agganciarsi e questo lo sapevo ecco perché mi sono prodigato finché sono riuscito a risolvere il problema e adesso stiamo arrivando al punto che vi farò vedere. Questi sono i pezzi che andremo a vedere dopo è tutto in plastica non ci sono problemi è già pesante la nostra meravigliosa armatura molti si lamentano io sinceramente devo dire come sapete ne sto costruendo tre e non c'è una non c'è una sola cosa che non mi funzioni le braccia stanno su da sole i gomiti si piegano e dove li metto stanno il ginocchio si apre si chiude perfettamente le dita funzionano benissimo il polso non ha assolutamente nessun gioco il casco non mi cade giù dal perno tutto si aggancia correttamente e perché perché Michele ha creato questo canale per aiutare quelli che hanno più difficoltà e in questo caso devo dire anche non solo quelli per risolvere la funzionalità e la stabilità di questa armatura certo molti di voi diranno ma Michele con quello che è costata dovrebbe funzionare tutto allora io ve l'ho già detto con quello che è costata l'armatura è bellissima è alta 60 centimetri pesa più di tre chili e mezzo a 52 o 54 articolazioni se voi riuscite a trovare qualcosa che costi meno a quel prezzo e in più che io mi son potuto permettere perché diversamente se non potevo pagarla un po' alla volta e come facevo e quindi se c'è qualcosa come ho fatto io da su cui intervenire ma qual è il problema io sono intervenuto e l'ho risolta per quello vi dico ragazzi mi raccomando se avete piacere che belle queste foto se avete piacere iscrivetevi al canale attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato e proprio perché Michele non si occupa del solo montaggio ma di tutto quello che ormai sapete ogni suo video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque non soltanto di guardare le immagini e il montaggio ma di comprendere tutto ciò che io dico vi ho dato già un'anteprima nell'altro video precedente è in arrivo robocop seguitemi ragazzi iscrivetevi e se avete piacere condividete nei gruppi dedicati i miei video perché sono video che vi aiutano a far funzionare tutto meglio nella prossima uscita costruisci la terza parte della posizione B dell'addome e la sezione inferiore del modello vi ricordo che il modello può essere posizionato in piedi può essere posizionato in posizione di atterraggio e potete decidere in questa posizione se con una parte dell'addome di queste tre che ci vengono fornite appoggiarlo col pugno destro per terra o con il pugno sinistro per terra adesso vi faccio vedere l'errore vediamo un po vi avvicinerò le immagini un attimo solo ecco qua questo è il pezzo montato non vi preoccupate perché ne ho altri da montare se noi andiamo a vedere la foto a pagina 6 ok noterete che usa una vite lp dove p indica che la vite va avvitata esclusivamente nella plastica ma se voi guardate meglio la foto vedrete adesso un attimo che vi faccio vedere vedrete guardate questo è metallo qui c'è una la vite la lp che è ovviamente avvitata nella parte sottostante che è in plastica qui invece in questa foto vediamo se riesco a avvicinarvela comunque avete le istruzioni anche voi in questa foto invece abbiamo la falange di plastica sopra che viene avvitata sopra il metallo e la lp dovrebbe avvitarsi nel metallo ma è impossibile non tanto perché è da plastica perché volendo si potrebbe anche farla girare dentro ma perché il foro del metallo è più largo della vite perché perché il metallo va messo sopra e non sotto se voi lo mettete sotto questo non vi si potrà mai agganciare all'armatura va bene ragazzi ecco perché dovete seguire i video di Michele e scrivervi perché cerca di aiutarvi io risolvo il problema della mia armatura però ho piacere di aiutare anche quelli che appunto vedo su tanti siti stranieri in tutta Europa dove appunto io pubblico i miei video e tutti si lamentano questo non va quello non va non va però bisogna fare anche attenzione e non ci sono problemi iscrivetevi al gruppo che ho su facebook tra l'altro ho anche un gruppo su facebook per la citroen due cavalli charleston ho un gruppo per la foro gran torino di star schiacci o un gruppo per la lancia stratos hf livrea all'italia del grande sandro munari e il suo navigatore silvio maiga e come vi ho detto prima è in arrivo robocop se poi date un'occhiata anche la playlist troverete tante altre cose adesso attenzione prima di procedere al montaggio vi servono un po' di cose che vado a prendere vi serve questa che abbiamo montato nel numero 94 prenderete anche questa aspettate che alzo un po' così quindi abbiamo detto questa questa e poi vi servirà lui fondamentale e ecco qui spettacolo non fate caso che mancano i coprimuscoli queste le ho tolte le placchette perché quando lo maneggiamo per evitare che possono staccarsi è meglio toglierlo sapete anche perché non le ho messe le placchette copriviti non ve lo spiegherò un'altra volta allora prima cosa da fare guardate perché è inutile che andiamo avanti a montare il pezzo e poi quando è finito Michele non mi si aggancia dovete provarlo prima dovete provarlo prima non guardate la qualità dei video cercate di se avete così se li apprezzate apprezzate nei contenuti i video sono quelli che sono faccio quello che posso allora andiamo a sganciare la parte questa perfetto e andiamo a provare subito quello che c'è contenuto allora contenuto ovviamente nell'uscita numero 95 dove abbiamo tre serie di viti tutte e tre da abitare esclusivamente nella plastica e senza assolutamente l'ausilio di nessun tipo di lubrificante una LP ho messo un po' a fuoco l'immagine una UP e una IP poi abbiamo questo pezzo qua che è l'aggancio andiamo a leggere quello è l'elemento di connessione addobbio ah sì addobbio l'addobbo di Natale dicevo che è l'elemento di connessione dell'addome B del torace poi vi farò vedere la prova che dovete fare prima di fare tutto il montaggio di questa ultima uscita che abbiamo qui poi abbiamo la corazza addominale frontale poi il supporto interno dell'elemento di connessione la piastra laterale B sì B è in realtà questa è la piastra laterale destra B perché è la posizione che hanno definito B quindi ci sarà la posizione A in piedi B in atterraggio con un pugno a destra C in atterraggio con l'altro pugno e poi abbiamo la piastra laterale sinistra eccola qui perfetto le diamo un momento tutto dovete fare questo prendete la vostra armatura staccate anche i copri comiti non premete la qua davanti perché mancando l'addome sotto ha più spazio e potrebbe rovinarsi una volta che l'addome è inserito problemi non ce ne sono quindi la prendiamo alziamo tutto dietro adesso vi farò vedere così la maneggeremo in sicurezza ecco qua vedete anche queste io le ho solo appoggiate le posso anche togliere le ho messe per fare vedere a voi il video perché sapete che io i coprivite li metto alla fine della collezione quando tutto funzionerà come dico io allora prendiamo questo elemento e dobbiamo andare a vedere che si incasti perfettamente bene sentite tirate e non si deve sganciare è inutile che montate il modello se già questo non vi si aggancia è chiaro no? è inutile che montiate il vostro modello per poi dire alla fine non mi funziona queste sono le prove da fare andiamo a sganciarlo ecco qua e adesso vi farò vedere il pezzo finito e poi lo monteremo insieme vedete come dovrà agganciarsi sentite guardate questo è il pezzo come dovrà essere alla fine qui ovviamente manca ancora la copertura dietro che ci sarà probabilmente nell'uscita numero 96 adesso andiamo a sganciare e vi faccio vedere anche un'altra prova che dovete fare prendete poi anche questo pezzo vi consiglio di mettere il nastro telato americano qua dietro così le alette rimarranno perfettamente allineate e non si vedrà nulla vedete guardate che bellezza quindi prendete questo provate controllate che tutto vada bene questa è una cosa in più dopodiché prendete anche questo guardate ecco qua poi vi devo dire anche una cosa in merito a questo tirate giù tutto e provate l'aggancio sentite questo vi ricordate è l'aggancio dove vi ho fatto tirare di più la molla e adesso capirete ancora di più per quale motivo perché l'aggancio è sicuro e stabile sentite guardate qua tenete presente che se vedete che si allarga qui non vi dovete preoccupare perché manca il pezzo dietro che poi chiude tutto vedete quindi questo tende ad allargarsi perché mancherà manca questo pezzo qui una volta che avvitiamo il pezzo a queste due viti o meglio a questi due fori vedete uno e due questo rimarrà completamente attaccato ripeto quello che sta succedendo adesso è soltanto dettato dal fatto che manca un pezzo ma voi dovete farla questa prova qui dovete farla perché solo così sarete sicuri che tutto funziona perfettamente bene non farla alla fine che non serve un attimo solo allora ripeto non fate caso a questa apertura che poi una volta messo il pezzo dietro combacerà perfettamente ma quello che conta è provare l'inserimento adesso sentite questo non vi si stacca più perché questa molla ha una spinta maggiore rispetto a come era tarata prima andate a vedere la modifica adesso vi faccio vedere un'altra cosa questa la possiamo tirare fuori anche con questo pezzo messo ma se dobbiamo mettere l'armatura con la gamba piegata da questa parte con questo addome quindi con il pugno sinistro a terra non potete tirare su questa andrà tirata su prima quindi sganciamo tiriamo su così uno e due e poi andiamo a inserirla nuovamente ecco vedete così la gamba può alzarsi ancora di più altrimenti questo una volta inserito non lo potete tirare su rischiate di danneggiarlo bene adesso io direi di passare al montaggio faccio un po' d'ordine e vi faccio vedere a dopo ragazzi pronti per il montaggio ragazzi allora bisogna solo fare attenzione a crearvi i filetti prima perché tutto sarà più semplice andiamo allora a prendere la corazza addominale la 95d e la mettiamo come in figura cioè così prendiamo la piastra laterale sinistra la 95c e la andiamo a posizionare guardate qui abbiamo un intaglio e qui abbiamo questa letta deve entrare all'interno guardate vedete sotto così la presentate e guardate che non ci siano dei bordi magari all'interno dove avete dei pezzi di plastica che potrebbero uscirvi fuori e la controllate così prima di avvitarla vedete che combaci tutto perfettamente a questo punto ci dice di prendere una vite lp e di fermare questo pezzo con la vite noi la vite ovviamente la inseriamo qua che è più largo ma la vittiamo qui quindi teniamo il pezzo così e andiamo a crearci il filetto un po' e un po' mi raccomando non spingete forte il cacciavite perché rischiate di danneggere la letta una volta che la vite si sarà inserita nel foro andrà giù da sé pulite la vite dai residui di plastica e andiamo ad avvitarci il pezzo ricordatevi che deve essere inserito qui all'interno della letta ecco qua se non vi create il filetto prima farete una fatica pazzesca ad avvitarvi i pezzi ecco fatto a questo punto ci dice di prendere due viti ip eccole qui e di andare avvitarle e di andare avvitarle qui prendiamo la vite ip e ci creiamo i due filetti quindi non vi preoccupate che la plastica diventa bianca quando la state avvitando è normale e perché si allarga ma non vi si romperà se invece farete il grave errore di mettere dell'olio vi si romperà dopo pochi giorni e vi ho spiegato il perché in altri video allora adesso a questo punto siamo così prendiamo il supporto interno dell'elemento di connessione e andiamo a metterlo così guardatelo da qui che si inserisca nei perni ecco qua e avvitiamo giriamo al contrario il cacciavite e poi senza stringere fino in fondo lo faremo alla fine ne mettiamo una e andiamo a mettere la seconda adesso possiamo stringere ovviamente accertatevi che qua sia tutto a filo con l'altro pezzo di plastica sottostante quando arrivate alla fine corsa fermatevi non esagerate adesso ci dice di mettere questo che abbiamo montato nell'uscita precedente quindi qua fate attenzione come vi ho spiegato mi raccomando adesso vi faccio vedere prendiamo questo in questa maniera così e lo andiamo a inserire qua vedete se voi invece seguite il disegno vi dice di metterlo sotto così ok scusate ragazzi avevo messo questo al contrario cioè vabbè non ve lo sto a spiegare perché complicherei di più le cose allora vi stavo dicendo invece se andiamo a vedere il disegno vi ricordate questo è il disegno questo pezzo qui che è correttamente inserito così col metallo sopra ve lo fa mettere sotto e quindi ve lo fa mettere così guardate ecco infatti la vite la fa vedere sopra questo pezzo di plastica attenzione non fate questo errore perché vi rimarrebbe il gradino qua vedete questo va messo su così ok e ci dice di mettere una vite lp quindi noi sfiliamo questo e ci creiamo con la vite lp il filetto qui ci vediamo dopo altrimenti i video diventano veramente troppo lunghi eccoci qua vediamo svitiamo la vite lp e inseriamo correttamente il nostro pezzo all'interno così tutto qui deve essere a filo guardate il metallo deve essere a filo con la plastica metallo plastica ok e andiamo a mettere la vite lp attenzione guardate vedete che la stavo avvitando storta vedete la vite ecco questo non deve accadere la svitiamo di nuovo e la mettiamo perfettamente perpendicolare al foro queste sono le cose che fanno la differenza nei modellini ecco qui vedete abbiamo fatto anche questo a questo punto ci dice di prendere il pezzo 95b che è questo che è la piastra laterale destra qui abbiamo questo intaglio che deve entrare in questa aletta qui guardate ecco deve entrare in questa aletta e deve adesso vi faccio vedere un attimo ecco guardate qui siamo perfetti vedete siamo entrati qua e qua attenzione la plastica vedete com'è guardate ve la sfido di nuovo così vedete questa deve stare all'interno di questo pezzo qui non sopra non dovete metterlo sopra così guardate parlo di questo pezzo qui questo con questo questo pezzo deve andare sotto spero di essere stato chiaro e poi ci dice di mettere un'altra vite lp qui quindi sfilo questo pezzo di nuovo e mi creo il filetto con la vite lp e ci vediamo dopo bene ci siamo creati con la vite lp anche questo filetto rimettiamo in posizione il nostro pezzo ecco qua e avvitiamo abbiamo quasi finito mi raccomando ragazzi sempre se avete piacere iscrivetevi al canale perché voi siete la vita del canale siete voi la vita del canale ricordatevelo michele cerca di impegnarsi ma siete voi la vita del canale va bene a questo punto prendiamo l'ultimo pezzo eccolo qua che è l'elemento di connessione addome e torace ecco qui lo giriamo come in figura e andiamo a inserirlo in questa maniera ecco qua lo mettete e guardate che tutto combaci perfettamente con i fori sotto altrimenti avrete sbagliato qualcosa perfetto e ci dice di fissare tutto con due viti up andiamo a crearci il filetto sia qua che qua con la vite up ci vediamo dopo ed ecco che abbiamo finito anche il montaggio del fascicolo numero 95 vedete come è importante qualsiasi dettaglio nel montaggio qualsiasi attenzione perché basta un millimetro montato in maniera non corretta che vi fa arrabbiare perché poi non vi combaciano i pezzi adesso questo è quello che abbiamo montato prima o meglio che avevo montato prima io e questo è quello che abbiamo montato adesso andiamo a provare il pezzo come anche voi dovete fare quindi alziamo un po' l'immagine e poi ci salutiamo ragazzi mi raccomando seguite il canale di michele perché vi aiuta allora andiamo a provare l'inserimento qui ripeto non fate caso all'apertura perché manca ancora il pezzo dietro avete sentito questa molla che vi ho fatto torcere al contrario per aumentare la resistenza come aggancia questo non si toglie più questo è quello che abbiamo montato adesso andiamo a toglierlo e questo è quello che vi avevo fatto vedere all'inizio vedete come si aggancia guardate passa il punto qua metallico e questo lo blocca guardate se non avete tirato la molla ma non credo che vi si blocchi ve lo faccio rivedere guardate la leva eh l'ho bloccata col pollice io avete visto? bene penso di avervi detto tutto quello che potevo dirvi vi ringrazio del vostro tempo grazie ragazzi di avermi seguito i video di Michele Armonica durano necessariamente di più perché questo vuole fare aiutarvi e quindi non posso ovviamente fare un video di 7-8 minuti potrei farlo ma dovrei farvi vedere solo il montaggio va bene vi do appuntamento al prossimo video non so quale sarà perché sto costruendo diverse cose vi abbraccio un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari grazie di seguirmi grazie di tutto con tutto il mio cuore ciao ragazzi